Ciao, creatura. Io sono Eka di Splendenti, benvenuta o bentornata nel regno di Cosa I, I, S, M, A. Eccoci tornati, buona domenica a tutti. Eccoci tornati sul nostro più trash appuntamento ASMR della regina di cuori di Cicioni. Siamo al capitolo 4 della seconda parte. Rivelazioni interessanti. Tu ed Alicia andate all'avventura, a meno che ovviamente tu non scelga un altro giovane amico affascinante con una proposta. C'è un sacco di errori, eh. Porto pazienza perché è fatto così. Ma ci piace anche per questo. Il giorno dopo, con i recenti sospetti sulla vita a te nel castello a buttarti giù, tu e Alicia guardate in giro per indizi, sarebbe molto più facile se sapessimo cosa stiamo cercando. Ah, ma dov'è il divertimento? È vero, ad essere sincera, è bello poter passare del tempo insieme a te. Lo so, non abbiamo un momento da sole da molto tempo. Mi manca poter uscire con te quando vogliamo. Lo so, ma dovresti abituardici. Se diventerai la mia regina, sarò il tuo schiavo. Non uno schiavo. Prova a pulire un intero castello un giorno. Sì, beh, ok, hai ragione. Ti fermi ad una finestra per ammirare le campagne del castello. Mi sembra ancora così surreale essere qui. Stai rendendo fiera tua madre. Come sta? Non mi dici tanto. Credo non voglia che ti preoccupi. E, ecco, starà bene, lo sai. Almeno, smettila. Sembri lei. E dai, sputa il rospo. Chi ti piace di più? Ethan o Jonathan? Allora, Jonathan non mi piace per niente. È brutto ed è anche un super uomo passivo che crede di fare il rapper invece ci sta rovinando la vita da solo. E quindi, anche no. Ethan, allora, premettendo che non mi piace nessuno, Ethan sembra gentile. Però io voglio diventare Jasmine su un punto perché se il gioco è diventare la regina, allora dirò Jonathan. Credo mi piaccia più Jonathan. A chi non piace un principe, appunto. Non è solo quello. È che voglio diventare il regino. È così arrogante esternamente, ma so che ha un lato vulnerabile, no, voglio. Un lato che solo tu riesci a vedere. Sei l'unica persona che si è avvicinata tanto a lui. Beh, chiunque tu scelga, sarei una ragazza molto felice, non è vero? No, non è che comunque. Vabbè, sì, è vero, perché la felicità non me la fanno gli altri, ma me la faccio io da sola, quindi si dica. È bello sentirsi apprezzata, non mi sono mai sentita così. Cosa intendi? Non mi sono mai sentita apprezzata, in senso romantico almeno. Ah, oh, Antonia, non immaginavo ti sentissi così. Non preoccuparti, non è così grave. Sì che lo è, dovresti sapere quanto vali. Sono così felice che quei ragazzi snob possano mostrarti quanto vali. Alicia, sei così gentile? Allora io scippo, adesso scippo lei con Alicia. Succederà questo nella mia fantasia. Mi sposo col principe, divento la regina. Faccio fuori il principe e segretamente mi faccio la schiavetta. La schiavetta, no, sembra un film porno. Nel senso che mi faccio le storie con Alicia, che è migliore amica e diventare affidanzata, però segretamente, perché sennò non si può. Oppure facciamo un regno lesbo. Questo video, chi lo vedrà, riderà tantissimo. Non lo segnalatemi, ragazzi. Come tua migliore amica, devo assicurarmi che tu sia felice. Se ti rendono felice, allora è la mia approvazione. Non potrei desiderare una migliore complice. Vedi, dai, cioè, Alicia è molto più EA, più avanti di Jonathan e Ethan, ma, cioè, ma veramente, stiamo parlando? Stiamo ancora perdendo tempo dietro Ethan e Jonathan. Sì, beh, dovremmo muoverci prima che qualcuno ci veda, altrimenti saremmo complici contro la corona. Continuo a camminare lungo il corridoio fino a raggiungere un ufficio. La porta è leggermente socchiusa. Non credo di essermi mai avventurato così lontano prima d'ora. Credo che quell'ufficio partenga la regina. Deve esserlo, la sento parlare. Cosa vuoi fare? Origlia, lontanati. Che si votano tutti, Origlia. Origliamo la conversazione. Sei sicura? Potremmo, potremmo, potremmo essere scoperte. Potrebbe star parlando di qualcosa di importante. È vero, ok? Andiamo a sentire. Andiamo e stiamo alla porta. Se ci beccano, basterà dire che avevi delle questioni urgenti da discutere con sua maestà. Buona idea. Vedrò cosa posso fare. Ti introduci di nascosto... Ah, mandavano degli altri una furbona. Ti introduci di nascosto al portone per ascoltare la conversazione. Ah, no. È il narratore, ok? Solo che è un sbagliato nuvolo. La regina ti dà le spalle mentre parla al telefono. Spero sia interessante. Shhh. Ti sentirà? La regina non si gira. E fai un sospiro di solie. Chiamo per chiedere informazioni su una consegna. Non ho ricevuto nessuna notizia. Dove l'escia vi scambiate un'occhiata mentre la conversazione continua. È in ritardo. Sarebbe dovuto arrivare lunedì. Capisci che è importante che arrivi domani. Quindi, la consegnerete per domani? Bene. Non deludermi. Non deludermi. Tu e Alicia strisciate fuori dalla stanza nel momento in cui la regina si gira. Fiu, fiu, fiu. Non abbiamo capito nulla, ma sappiamo che qualcuno dovrà consegnare qualcosa domani. Ci è mancato poco. Ma potenzialmente importante. Di cosa stavo parlando? Non lo so. Un pacco, qualcosa del genere. Cosa pensi che sia? Un vibratore. Per il ballo di corte un regalo. Un regalo. Un regalo per qualcuno. Potrebbe essere. Forse è il compleno di qualcuno. Ti viene in mente qualcuno? Vediamo. Non è il principe. Forse è un amico della regina. Non è una conclusione allettante. Ma sì, lei se la fa, la regina se la fa di nascosto con lei, il padre di Rosetta. Quindi, no, hai ragione. Ma forse dobbiamo accettare che la telefonata era innocente. Forse, il pacco. Però mi intriga. E suona anche male. Anche vecchiamine. Potreste tenere d'occhio le importazioni addirittura. Buona idea. Vedrò cosa posso fare. Per ora continuiamo a cercare. Passate tutto il pomeriggio a esplorare il castello in cerca di indizi. Più tardi quella sera qualcuno buzza la porta. Che può essere a quest'ora? Inizialmente è paura che possa essere la persona che ti ha mandato il messaggio. Lady Antonio, sono io. Facendo un sospiro di solevo ti alzi per aprire la porta. Buonasera. Buonasera, posso aiutarti? Confesso di essere annoiato sottanotte. Vorrei che qualcuno mi si unisse a me in una gita. Una gita dove? Pensavo di prendere la macchina e visitare la città. Hai detto che mi avresti mostruato il posto un giorno. Già. Allora, cosa ne pensi? A seconda avresti la mia avventura di mezzanotte. Ti torno in mente l'avvertimento della regina di stare lontano da Jonathan? Cosa rispondi? Allora, vorrei dire di no. Masticata. Cioè, siamo qui per intrattenere, quindi intratteniamo. Certo che sì. Lasci che il principe afferri il tuo braccio e ti porti via. Tu e il principe Jonathan salite sulla sua fantastica macchina nera pronta per la città. Non guido molto spesso in realtà, ok? Non dovrei nemmeno lasciare il castello. C'è una prima volta per tutto. Sei una cattiva influenza. Adesso è colpa nostra. Ti metti che sei tu ad avermelo chiesto. Infatti, ma come ti rigirano le cose? Guarda. Ebbene sì, mi vedi. E sono molto felice che tu sia qui. Sono felice anch'io. Volevo dormire. No, dai, sono felice anch'io. Ti mo faccio un giro. Lo sono anch'io. Le vostre facce sono vicine. Credi di essere vicina a baciarla? Mi vedi. Sei semplicemente divina. Ma chi è che dice divina? Questo qua, dai. Ci siamo capiti. I vostri nasi si scontrano. Ma vedi la luce di una torcia? Ci avvicinassi al giardino? Ci hanno già beccato. Andiamo via da qui. Schiaccia quel pedale. Pinchia. Ti piace Beppe? Ma come? Cosa vuol dire? Jonathan è diventato Tan. Accelera portando di corso lontano dal castello. Siamo in viaggio. Esaltante. Benvenuto alla libertà, principe Jonathan. Che ridere. Mi sto troppo divertendo con te la creatura. Scendi dalla macchina e ti dirigi verso la città. Un déjà vu. Di essere qui con te. Stavate occupate e stanze affondate. Ma nella mia mente siamo solite come sono romantiche. Ti piace quella canzone? Non pensavo... Ah, una canzone. Non pensavo capissi il riferimento. È la mia band preferita. Un'altra cosa che abbiamo in comune. A dove stavo con te mi sembra di poter essere me stesso in ogni momento. Anche a me. Vi vedete fuori dalla torre dell'orologio cittadino? Quando ero piccola io e i miei amici ci incontravamo qui perché è il centro della città ed è un monumento destitivo. E voi dove andavate? Ogni tanto andavamo al parco ad ascoltare musica dai nostri cellulari. Molto vecchio a scuola. A volte portavo anche caramelle sfuse. Ah, ok. Perché il mix ce l'ho tradotto con caramelle sfuse? Compose domande. Ma ce lo chiede a noi. È interessante che tu dica così. Il principe Jonathan tirò fuori un sacchetto di caramelle dalla tasca. Dove le hai prese? Mando Ethan in città una volta alla settimana per prendermele. In modo da tenerti dolce. Divoltante. Quale vuoi? Gammy Pears or liquorice. Ah, liquorice. Allora, liquorice. Grazie a Rosa mi fa schifosa di plastica. Mettiamo Gammy Pears. Ne prendi una dal sacchetto stringendola fra le dita e dandogli una cucina. Guardami, sono dead bugger. Oddio, sembrava. Sad fingers. Mangiami, mangiami, mangiami. Avrei fatto così, io. La divattente. Mi piace fare picnic e mangiare sandwich alla marmellata. Sei talmente bambina nel cuove. E non cambierei per nulla il mondo. Nemmeno io. Vi gustate le caramelle se tutti uno a fianco all'altra? Le vostre braccia che si toccano? Quasi deve essere venuto stanotte. Ogni tanto sento il bisogno di fuggire. Cioè, sono fuggiti per mangiarsi delle caramelle. Non ho parole. Si vede che è proprio un'app per bibbie. Vabbè. Ma almeno uno sprizzetto. Cioè, non dicevo di fare cose così strane. Ma almeno uno sprizzetto. Cioè, se lo potevano bere. Sogno un posto fatto solo per me. Solo per te. Beh, un po' di compagnia. Sarebbe piacevole. Ethan verrebbe a farmi visita, ovviamente. E tu? Pensa sempre a Ethan, però, eh. Attenzione. Un posto caldo. Un posto senza macchine. Sembra tranquillo. Sembra un'isola, tipo. Il Caraibi. Lo sa, vebbe. Avebbe un piccolo cottage. E il minimo indispensabile. Con i soldi che hai quando sarai re. Potrei comprare un'isola. Lo sai vero, furbo? Non deve essere per forza un sogno. No. Un giorno abdicherai. E a quel punto potrei fare ciò che manca ancora molto tempo. Ma anche essere il re sarà un'avventura. Suppongo di sì. Specialmente se potrò condividerla con qualcuno che amo. Porta una tua giocca di capelli dietro il tuo orecchio. Col suo pollice che ti accarezza la guancia. Sprevo un giorno di poter condividere con te quel sogno. Assolutamente. Perché voglio l'isola adesso. Mi fatevi in mente che voglio un'isola. Anche io. E il principe sorride. Poggiando la sua fronte contro la tua. Ti provendo in pavola. Sarà meglio. Immagino sia meglio. Do una nave prima che qualcuno si accavoca che non ci siamo. Gvasse per la sevata. Non la dimenticherò mai. Il principe ti offre il suo braccio. E camminate per la città. Abbracciatela. Capitolo 5. Parte 2. La trama si infittisce. Duello di spada. E curiosare. La tua giornata può diventare più pazza. Oh. Non ho idea. Boom boom. C'è qualcuno che fa casino fuori. Casin, casin. Il giorno dopo devi allenarti. Con Ethan cosa indossi? Ah, ecco. Oh. Ma va a fama. Che cos'è sta roba? Fammi vedere questo. Dai, molto più adeguato per... Cioè, non è adeguato per niente, però... A meno un po' di pantaloni. Andrò meglio con la spada, dai. Anche questi pantaloni, effettivamente. Però ha tutte quelle perline lì. Mi sembra scomodo. Direi che per allenarmi una canotta, diciamo, più o meno, e un paio di pantaloni... Che cacchio... Che cacchio... Vabbè, la sciampiera sembra... Di discoteca, però... Vabbè, noi poi... Ho bisogno di restare preparata. Un vestito fresco come questo è fantastico, esatto. Soddisfatto della vostra scelta. Continuate con il resto della giornata. Campani. Tu e Ethan hanno state facendo pratica di combattimento con la spada. Ya! Ti lanci contro Ethan in un grido di battaglia. Schia facilmente il colpo. Posso farlo in ASMR? Immagina di quello di Xena. Ok. Dimmi cosa hai fatto di sbagliato. Più o meno tutto. Non ero sulla difensiva. Sì, cos'altro? Simo non si può vincere stando sempre sulla difensiva, per esempio. Cioè, nel senso, dovrà attaccare prima o poi. Se ti pari, basta. Non puoi vincere. Comunque, dettaglio. Ho fatto troppo rumore e sapevi esattamente cosa stava per succedere. Mi fa piacere che lo abbia notato. Maxima faceva rumore, ma vinceva lo stesso. Perché non abbiamo un cerchio rotante. Abbassi la testa. Ethan alza. Alza il tuo mento con le dita. Ehi, scherzavo. Lo so, è solo che non sarò mai capace. Ecco che arriva lo sconforto. Sì che lo sarai. Beh, forse non contro i migliori spadaccini. Lo sapevo. Ma non è mai stata una possibilità di alleni solo da qualche giorno. Ma ci sarà sempre qualcuno più bravo, ma anche più incapace di te. Quindi dai, ce la possiamo fare. Magari siamo fortunati. Becchiamo qualcuno di più incapace di noi. Quelle ragazze hanno una vita di esperienza. Sarebbe difficile competere con loro. Lo so, questo lo so. E allora che c'è? Hai qualcosa di più importante per la testa? Rifiuto? Accetta? Accetta? Non so cosa, ma accettiamo. Un po' tutto. Si tratta della lettera. In parte, ho un sacco di pressione in questo posto per comportarmi in un certo modo. Non sono adatta. Conosco quella sensazione. Capisco perfettamente. Senti, qualsiasi cosa sia, devi calmarti. Non posso. Ho bisogno di fare pratica. Hai bisogno di una pausa. Ma, già, ma non capisci niente, Eva. Te lo giuro. È una cosa di cui ho bisogno. Ci stiamo allenando tutta la mattina. Una mente produttiva ha bisogno di sufficiente riposo. Cosa posso fare per farti sorridere? Beh, se conoscessi qualcuno incompetente quanto me sarebbe confortante. Esatto. Penso di avere una storia che adorerai. Ok, dimmi. Che tu ci credono quando iniziato ero molto peggio di te. Ho bisogno di prove. Il mio primo giorno ho dato un colpo di spada talmente forte che ho fatto svenire, Jonathan. Non ci credo. Me ne vergogno. Ma è vero. Rallegrati, rattristati. Rallegrati, dai. Se l'hai meritato. Sei così cattivo. Sono un uomo. Beh, tutti i principi hanno bisogno di scendere dal piedistallo. Sei perfido. Sembra una mistress. Non posso credere che fossi terribile anche tu una volta. Beh, immagino che tutti debbano iniziare da qualche parte. Come fai a sapere sempre come fammi sentire meglio? È un dono. Credi che sia pronta per la prova di spada? Beh, non credo che vincerai. Ma ricorda, sono una persona buona. Credi sarà Rosetta? Probabilmente. È brava. Mi batte sempre. Scommetto che le piace tantissimo. Oh, direi di sì. Non si fa nessun problema nel battermi. Redi, finalmente un po' di più felice. Sinceramente, pensavo che col principe pronto a sposarsi sarei morto di noia. Ma poi mi sono imbattuta... Ah, ma che... Ma poi mi sono imbattuta in un... Con confusa adesso chi è che sta parlando? Vabbè. Ma poi mi sono imbattuta in una conveniente distrazione. La mano di Ethan ti accaressa la guancia. Sei più di una distrazione per me. Ah, era lei ma era scritto male. Ok. Confortalo. Metti un limite. Friendzone. Sono felice che siamo amici. Anche se non siamo di più. Mi ha fatto piacere conoscerti. Qualsiasi cosa accada. Ci terremo in contatto. Assolutamente. Sei pronta a finire la giornata. Grazie Ethan. Ci vediamo domani. Friendzone. Ti siedi in attesa nella tua camera da letto aspettando l'arrivo di Alicia. Spalancano la porta. Tu e si lancia dentro. Ehi, ho delle novità. Stavo cercando in mezzo a tutte le consegne per trovare qualcosa di insolito. E... C'era un pacco per Rosetta. Cos'era? Ecco. Non ero sicura dall'inizio. Era un pacco... Oblungo. Oddio. Tutti abbiamo pensato quella cosa. Lo so bene. Immagino possa essere qualsiasi cosa. No. Fidati. L'ho pensato anche io. Ed è per questo che ho deciso inizialmente di non guardare cos'era. Perché hai cambiato idea? Sai anche tu che Rosetta è la ragazza più losca che conosciamo. Questa inoltre è la sua prima consigna da quando è qui. Suppongo sia inusuale. Sul pacco c'era la scritta fragile. Di certo non si fa spedire mobili. Quindi cosa hai fatto? Mi sono infiltrato nella sua stanza per capire cosa fosse. E' spaventoso. Sei fantastico. Sei fantastico. Sei talmente cazzuta. Dai, mettiamo cinza moglie a te. Alisha vince un inchino. Grazie mille. Non posso credere che sia riuscita a farla franca. Chi osa vince. Frofinger. Spero che tu sia almeno riuscita a capire cosa stia succedendo. Più o meno il pacco era una spada. Beh, immagino sia per la prova di settimana prossima. Ma Rosetta ha già una spada. Sai come sono questi nobili? Voglio. No. Sempre avere una spada vistosa in più. Quindi stai dicendo che non è sospetta? Non necessariamente. Perché la regina dovrebbe darle una spada nuova? Beh, immagino le piaccia di più Rosetta. Credi che la spada sia stata fatta apposta per avvantaggiare Rosetta nella prova? Probabile. Bene. Allora immagino sia per alzarsi presto domani. Perché? Per allenarmi. Ma che... Per allenarmi. Non lascerò che mi sconfigga ora. Fine del capitolo. Ok. Il capitolo 6 e 7 lo vedremo la sabato e poi domenica abbiamo capitolo 8 e 9. Non ne mancano tantissimi eh. Abbiamo ancora poche e poche puntate e poi inizieremo una nuova serie. e io ti auguro una buonanotte, un buon relax. Ciao creatura. Grazie. Grazie. Grazie.